L'Apostolo Paolo spiega eccellentemente che la differenza non consiste nel sapere cosa sia giusto da non sapere cosa sia giusto, ma nel riuscire a farlo. Quindi nella lettera di Paolo ai Romani si parla esplicitamente di una corruzione del mondo, mettendo in evidenza come il comportamento di Giudei e Greci sia sostanzialmente il medesimo. L'unica differenza che i primi hanno è quella di una conoscenza per via della legge, mentre gli altri la ignorano. Tuttavia vi è in ogni uomo altresì una legge morale interiore nella coscienza di ciascuno. Questo però non basta poiché nessun uomo può salvarsi da sé per le sue opere, con i suoi sforzi o altro. Come essere salvati dunque? Ci vuol ben altro che sia al di fuori dell'uomo per poter raggiungere la giustizia di Dio, perché infatti di fronte a Dio tutti sono colpevoli e nessuno può vantare alcuna pretesa. Però ecco la buona notizia. Cristo, l'inviato del Padre, il nostro sostituto, il nostro Redentore, viene per noi reso nostra giustizia e nostra santificazione. Lui è la riconciliazione al Padre, dal quale l'uomo è separato a cagione del suo peccato. La comunione interrotta può essere ripristinata in virtù della grazia di Dio, della sua iniziativa libera di amore, per fede e per fede soltanto in Gesù, Salvatore nostro. Gesù dunque ristabilisce e ripristina la relazione dell'uomo con Dio per mezzo della fede. Infatti sta scritto giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.